Grazie Presidente, questa mozione condivisa da tutti i gruppi ha l'intento di valorizzare e tutelare un farm and market molto apprezzato dalla cittadinanza, quello di Garbatella in via Passino. Questa amministrazione ha già finanziato un progetto per l'antincendio visto che lo stato dei luoghi non era adeguato a livello di norme antincendio e questo ha portato poi all'esame da parte dei vigili del fuoco del progetto con prescrizioni. Purtroppo il bando di concessione è in scadenza e quindi noi chiediamo tutti uniti i gruppi di Capitolini di permettere e di valutare al Dipartimento una eventuale proroga nelle more del bando e della conclusione dei lavori. Quindi questo è molto importante per tutti quelli che sicuramente esercitano attività lavorative all'interno del farm and market e per i cittadini che lo utilizzano quotidianamente con un servizio che fornisce prodotti a chilometro zero, filiera corta, insomma tutto ciò che questa amministrazione vuole tutelare. Questo poi prevede come terzo punto, come lei ha enunciato, anche la possibilità eventuale di identificare di concerto tra l'assessorato alla sviluppo economico, turismo e lavoro e lo stesso municipio delle aree scoperte dove eventualmente gli operatori potranno proseguire l'attività. Grazie.